è il cardinale Pietro Parolin, in Ucraina. Il cardinale Pietro Parolin è un uomo molto potente, mi pare che sia il segretario di Stato, è molto potente, ma non è completamente d'accordo con Papa Francesco, perché Papa Francesco ha detto che è arrivata l'ora per l'Ucraina di alzare la bandiera bianca. Invece il cardinale Pietro Parolin ha detto che per alzare la bandiera bianca si deve mettere fine all'aggressione, capito? All'aggressione, per Pietro Parolin la guerra che è in corso in Ucraina tra la Russia e l'Ucraina è dovuta all'aggressione della Russia. Si vede che Pietro Parolin sarà una brava persona, con carità questo cardinale segretario di Stato, ma non conosce la storia. Pietro Parolin, ma tu non lo sai che cos'è il potentissimo principio dell'autodeterminazione dei popoli che fu portato in Europa alla fine della prima guerra mondiale dal presidente americano Woodrow Wilson. Il principio dell'autodeterminazione dei popoli, sulla base del principio dell'autodeterminazione dei popoli, caro cardinale, è il Donbass e la Grimea. Devo fa parte della Russia perché dentro il Donbass e dentro la Grimea gli abitanti sono quasi tutti russofoni e filorussi. Pietro Parolin, ma lo sai che ha fatto il regno d'Italia ai tempi della prima guerra mondiale? Pietro Parolin, ma lo sai che ha fatto il regno d'Italia? Il 24 maggio, il piave e mormora, quando noi abbiamo aggredito l'Austria. Ah, non lo sai Pietro Parolin che noi, noi del regno d'Italia, il 24 maggio 1915 abbiamo aggredito l'Austria per portare via l'Austria a Trento e Trieste. e tu cosa vorresti dirci Pietro Parolin? Che l'Italia è stato un paese aggressore nei confronti dell'Austria? E tu cosa vorresti dirci Pietro Parolin? Che l'Italia è stato un paese aggressore nei confronti dell'Austria? Perché l'Italia voleva portare via l'Austria a Trento e Trieste? Qua mi fermo Pietro Parolin, caro io ti voglio tanto bene, eh. Ma ti do un consiglio Pietro Parolin, guarda, mettiti nelle mani del Papa Francesco che le cose le conosce meglio di te. Se poi tu mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale, io Serafino Massoni, che sono una persona buona, ti farò pervenire a mie complete spese una coppia di qualche mia opera, a tua scelta. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni. Cliccato 2 Gli Chi